C'è chi grida al miracolo. In realtà è un altro passo in avanti sulla strada della rivoluzione che Papa Francesco sta facendo in Vaticano. Ieri il Papa ha fatto arrestare un nunzio apostolico, l'ex ambasciatore del Vaticano a Santo Domingo. È la prima volta che accade ed è la prima volta che a subire un provvedimento così grave sia un alto prelato della Chiesa romana. L'ex nunzio apostolico era accusato di pedofilia. L'anno scorso era stato richiamato a Roma, poi sottoposto a processo ecclesiastico che si era concluso con la condanna alla riduzione allo Stato laicale. Però il Papa ha voluto anche il processo penale sempre in Vaticano e ieri l'ex prelato è stato nuovamente condannato e arrestato immediatamente. Adesso è praticamente l'unico ospite delle prigioni dello Stato del Vaticano. Si trova nella stessa cella che due anni fa fu occupata dall'ex maggiordomo di Papa Benedetto XVI che fotocopiava la sua corrispondenza privata e ci resterà per lungo tempo. Una volta i preti accusati di pedofilia la passavano liscia. Quelli che poi venivano processati e i pochissimi che venivano condannati perdevano la toga ma tornavano in circolazione, circolavano liberamente. Adesso Papa Francesco ha impresso una svolta che possiamo definire storica, epocale. I condannati per pedofilia, preti o altissimi prelati devono finire il resto della loro vita in prigione. Beh, ha fatto bene. Attenzione però, di questo passo dovrà costruire in Vaticano un carcere molto più grande nel quale dovrà metterci non soltanto i preti pedofili ma anche tutti coloro che approfittando della toga continuano ad abusare della chiesa, del suo magistero e delle sue ricchezza.